Tempo di presentazione in casa Napoli. Il DS Meluso infatti si presenta ai tifosi e alla piazza gli obiettivi sono chiari e il Napoli vuole puntare sempre più in alto. I giocatori del Napoli non mi sono stati ancora riferiti ma noi cominceremo a essere operativi da domani perché domani abbiamo una riunione con il Presidente, il Dottor Chiavelli, il Chieri e anche con gli altri scout. Cominceremo a parlare a 360 gradi e per il momento non ho un'inizio di questo genere. Il ritiro di Di Mauro è partito, i tifosi acclamano il Presidente Aurelio De Laurentiis e soprattutto c'è grande entusiasmo per il futuro. Si spera che sul mercato possa accendersi qualcosa dopo la partenza di Kim, la speranza è che possa finalmente arrivare un difensore di livello.